Grandi disagi oggi a Milano per lo sciopero dei trasporti di quattro ore a cui ha aderito l'87% dei lavoratori. Totalmente ferme tre linee della metropolitana e numerose le corse soppresse anche in superficie. La mobilitazione era stata indetta dai sindacati per protestare contro il taglio dei finanziamenti stimati in 52 milioni di euro. Tornare ad occuparsi delle periferie intese in senso lato, comprendendo cioè sia quelle territoriali che quelle dei lavoratori che hanno sempre meno tutele e diritti. E' il grido d'allarme lanciato dalla CISL nel corso della riunione organizzativa che si è svolta stamattina presso la sede del PIME a Milano. E' atterrata oggi a Linate Amanda Knox, la ragazza statunitense assolta dall'accusa di aver partecipato nel 2007 all'omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher. Per la prima volta in Italia dopo la scarcerazione del 2011, Knox non ha rilasciato dichiarazioni e parteciperà al Festival della Giustizia Penale di Modena. Partirà a ottobre la rassegna di spettacoli a sfondo ambientale dell'ecoteatro di via Fezzan a Milano. Si tratta della prima sala a dotarsi del certificato di ecosostenibilità del capoluogo Lombardo. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Come avete sentito nel nostro sommario? È stata una giornata difficile per chi si è mosso sui mezzi pubblici stamattina. Quattro ore di sciopero, grandi disagi con un'adesione pari all'87% dei lavoratori. Sentiamo tutti i particolari nel servizio di Jacopo Casoni. Una mattinata nera come la pece per chi di solito si muove con i mezzi pubblici ed è rimasto appiedato, ma anche per gli automobilisti intrappolati in ingorghi apocalittici un po' ovunque in città. Alle 8.45 hanno chiuso i battenti tre linee del metro su quattro. L'unica a rimanere in funzione è stata la rossa. Quattro ore di sciopero con i mezzi di superficie coinvolti in parte e comunque imbottigliati nel traffico di un giovedì rovente. In tutti i sensi, a Cadorna anche la stazione si presentava così, con i treni fermi, i tabelloni che non lasciavano spazio a speranze di sorta e pendolari e turisti un po' spaesati. Allora tutti in coda per un taxi, qui come altrove, a incrociare le braccia agli iscritti a CGL Cisle Will, con i sindacati preoccupati per i tagli al trasporto pubblico locale, che per la sola Lombardia potrebbero pesare per 52 milioni di euro. Volevano un incontro con la regione, non hanno ricevuto risposta, dicono loro. Fontana ci ha rassicurato, mettono a referto, ma occorre aprire un tavolo che entri nel dettaglio, così non basta, il mancato incontro peggiora lo stato di incertezza. Tornando in strada, per così dire, alle 12.45 tutto si è sciolto in un sospiro di sollievo, almeno per chi ha potuto varcare le porte delle linee del metro. Per quanto riguarda quelli al volante delle proprie auto, l'incubo non è ancora finito. E a proposito di traffico, era bloccata proprio nel traffico in via Gattamelata, Milano, una donna che ha rischiato di partorire in auto. Grazie all'intervento dei carabinieri però è riuscita ad arrivare in tempo in ospedale. Il parto è accaduto quando l'evento è accaduto, i militari del nucleo radiomobile si sono accorti che c'erano due donne in auto particolarmente agitate. Una di loro, alla guida, ha spiegato che l'amica, una 29enne di origine romene, stava per partorire e non sapevano come aggirare il traffico. I carabinieri si sono fatti spazio tra le vetture e hanno scortato le due donne per un paio di chilometri fino all'ospedale Buzzi, dove pochi minuti dopo la donna ha dato alla luce una bambina. Parliamo ora di una questione controversa di cui si è già discusso il fatto che ci siano delle scosse provocate sostanzialmente dalla velocità eccessiva della metropolitana. Ebbene, una trentina di residenti è scese in piazza per protestare di Milano, nei pressi di piazza argentina, per protestare contro le scosse dovute al passaggio dei treni della metropolitana ed ha chiesto che i mezzi possano andare più lentamente. Ebbene, il Comune sta studiando una strategia, chiamiamola, antiscosse, cioè i treni che possono procedere a una velocità ridotta proprio per cercare di ridurre il loro impatto. E questa è l'ipotesi a cui sta studiando, su cui sta lavorando il Comune, ipotesi che riguarda in particolare la zona vicina alle fermate Cagliazzo, Loreto, Piola, Pagano, Conciliazione e Cadorna. Riunione oggi organizzativa della Cisla presso la sede del Pime a Milano. Al centro della riflessione degli sforzi del sindacato ci sono le periferie, sia quelle territoriali che quelle dei lavoratori che hanno sempre meno diritti e tutele. Il claim dell'evento di oggi al Pime di via Mosè Bianchi era Cisla siamo un impegno che parte da una riflessione sulle periferie in senso lato, tutte le periferie, quelle fisiche ma anche quelle sociali e lavorative. L'idea è quella di un sindacato che deve tornare a occuparsi dei più deboli. Vogliamo stare in mezzo agli ultimi, dobbiamo riappropriarci di un grande ruolo che è un ruolo di servizio, è un ruolo di attenzione, un ruolo di accompagnamento delle persone che vivono le difficoltà. Perché purtroppo i messaggi che circolano in questo paese lavorano sulla panza, sulla divisione e in alcuni casi creano delle frizioni sociali che possono essere pericolose. Testimonianze di Don Colmegna, dell'ex presidente di Fondazione Cariplo Giuseppe Guzzetti, di altri che vivono le periferie, le sostengono. La Cisla vuole fare la sua parte, al fianco dei giovani anche, dei precari. Su questo fronte di passi avanti se ne sono fatti. Ora c'è il dibattito sul salario minimo, quell'idea che proprio non convince. Il contratto, così come il lavoro, è molto di più rispetto al salario, del semplice elemento salariale. Noi infatti in particolare per quanto riguarda i lavoratori temporanei, attraverso la contrattazione, realizziamo in particolare anche la costruzione di bacini per la continuità occupazionale. Perché non basta solo dare il giusto salario quando uno ha un contratto di lavoro di tre mesi, ma iniziare anche contrattualmente a fare dei ragionamenti di prospettiva, cioè di dire dopo questi tre mesi di contratti il salario minimo è finito. E poi cosa c'è? Che queste persone possono avere attraverso la formazione, attraverso anche degli impegni delle controparti, una maggiore continuità lavorativa e quindi cogliere anche altre opportunità. Questo quanto la denuncia, insomma l'allarme, chiamiamolo così, lanciato dalla Cisla. Cambiamo argomento. Tre mestri di un asilo nido di Rodengo Sayano in provincia di Brescia sono state arrestate per maltrattamenti sui bambini. La procura di Brescia aveva chiesto i domiciliari, ma il GIP ha disposto l'obbligo di firma. L'operato delle tre è stato ripreso dalle telecamere installate dagli inquirenti dopo le prime denunce di un genitore che aveva notato un cambiamento dell'umore del figlio e alla luce del racconto di una ex dipendente dello stesso asilo che denunciò il comportamento scorretto delle colleghe. Le immagini riprenderebbero le maestre mentre spintonano i bambini e dicono loro parolacce. Secondo l'accusa avrebbero poi impartito punizioni ritenute eccessive come il mancato cambio del pannolino o la sottrazione del cibo ai bambini. Le maestre sono accusate di maltrattamenti aggravati. E' atterrata oggi a Milano Amanda Knox con un volo proveniente da Dublino la ragazza statunitense che venne assolta dall'accusa di aver partecipato all'omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher. La ragazza è arrivata oggi accompagnata dalla madre e dal fidanzato e dai legali ma ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Come vedete attorniata dai giornalisti con la testa bassa ha deciso di non affrontare l'assalto dei cronisti. Per la prima volta in Italia da quando è stata scarcerata, scusate, da ottobre del 2011 dopo l'assoluzione della corte d'assisa d'appello di Perugia. Amanda Knox parteciperà al festival della giustizia penale di Modena. Scusate. E ora andiamo a conoscere il primo ecoteatro sostenibile di Milano. Le istanze di Greta e del suo popolo sul palcoscenico, in sala, nel foyer. A Milano c'è un ecoteatro, si chiama proprio così, è in via Fezzan, zona bandenere e oggi ha presentato una serie di spettacoli che in comune hanno appunto l'attenzione ai temi della tutela del pianeta. Marisa Laurito, Sabrina Impacciatore, Sandra Milo, Gianfranco D'Angelo tra gli artisti coinvolti nel progetto. Quest'ultimo racconta così il suo contributo con la partecipazione dell'amico di una vita, Sergio Vastano. Sono tre amici che si incontrano al bar e parlano dei loro ricordi, ma anche della vita attuale di ogni giorno, raccontando delle cose che possono anche essere frivole, ma anche delle cose che possono anche emozionare. Un teatro dove campeggiano gli appelli ecologisti di attori e personalità della cultura milanese e no, che ospita uno spazio espositivo che ora vede le opere dello street artist a impatto zero, Jena Cruz, che dipinge con vernici speciali. Un bar plastic free, una serie di accorgimenti che dovrebbero portare la sala ad essere la prima a Milano conforme al protocollo ISO 20-121, che detta le prassi per l'ecosostenibilità degli eventi. Era, diciamo, il passo più significativo, cioè fare a Milano una sala che rispettasse delle modalità operative e sostenibili, un po' ispirate a quello che è stata la grande esperienza di Expo 2015. Il tutto con un'idea in testa, un piano rispetto alle piantumazioni. Vorremmo contribuire a realizzare quello che è stato il sogno di un grande protagonista della cultura milanese, che era il maestro Claudio Abbado, che voleva i 90.000 alberi. Cambiamo argomento. Nuovo botta e risposta tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Oggetto della discussione, la festa per la curva dell'Inter, che dovrebbe essere organizzata il 30 giugno ai Giardini Montanelli di Milano, un'iniziativa che il comune non vedeva con favore, avendo comunicato la necessità di cambiare luogo per problemi di ordine pubblico e di fruizione del parco. A questa decisione aveva risposto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dicendo che sostanzialmente il comune, a suo avviso, doveva ripensarci. Quindi oggi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che vedete nelle immagini, ha fatto un posto su Facebook dicendo prendiamo atto che relativamente alla festa per i 50 anni della curva nord dell'Inter ai Giardini Montanelli, il ministro Salvini dice garantisco io. Le nostre perplessità nascevano dalle prescrizioni della pubblica sicurezza rispetto alla chiusura parziale e al presidio dei cancelli del parco. In altre parole, fruizione limitata del parco da parte dei cittadini e persone di pubblica sicurezza da dirottare in loco. Se Salvini, attraverso il suo ministero, ha concluso Sala, vuole prendersi la gestione diretta dell'evento, diamo la nostra disponibilità a concedere lo spazio. Ora parliamo di cronaca giudiziaria. Con l'accusa di aver pilotato la nomina, creando artificiosamente, questo dice l'accusa, un posto di lavoro per la donna con cui era legato da una relazione affettiva stabile, facendole quindi ottenere prima l'assuzione e poi la progressione funzionale ed economica, insomma un avanzamento di carriera in sostanza, Giuseppe Minei, ultra sessantenne architetto ed ex direttore del parco Adda Nord, è stato mandato a giudizio a Milano per turbativa d'asta, abuso d'ufficio e falso. Reato il primo che costerà il processo anche a lei, Francesca Moroni, di 26 anni più giovane di lui. Il dibattimento si aprirà il prossimo 10 ottobre davanti al Tribunale di Milano. Presentata stamattina in Asso Lombardo, la mostra multimediale su Tex, il re del fumetto italiano, un personaggio che ancora incassa il favore di tante generazioni di lettori. La leggenda di Tex in mostra, da oggi e per un mese, negli spazi di Asso Lombarda, in Via Pantano, un'esposizione multimediale che racconta la storia di un personaggio che resta un'icona del fumetto e della cultura italiana, un must, la vetrina di un settore intero. Asso Lombarda ha scelto lui e Labonelli, che lo edita ormai dal lontano 1948, come emblema da ospitare nel solco di un percorso che vuole mettere in evidenza le eccellenze dell'industria italiana e che come ben testimonia anche il ruolo dell'Associazione nel sistema dei musei d'impresa, è parte di un canovaccio preciso. Quello che forse manca oggi è proprio quello di riuscire a raccontare l'impresa e tutto il bene che l'impresa rilascia anche al territorio, non solo in termini di occupazione, ma anche proprio per quello che viene fatto dall'impresa all'interno dell'area dove essa vive. Il cowboy più famoso d'Italia è tutto qui, in Via Pantano. Il numero 1, La Mano Rossa, primo album pubblicato in versione extra large. Il numero 695, L'Ultima Vendetta, presentato in elicola interamente a colori e con la copertina dipinta per festeggiare i 70 anni di vita editoriale. Questo e tanto altro perché Tex è sempre lui. Non tramonta, magari l'incedere è meno impetuoso, meno arrembante, ma non molla un centimetro. E il segreto è presto svelato. Tex intanto esprime dei valori socialmente apprezzati, in quanto è per la giustizia, per la protezione dei deboli e poi anche la consistenza delle storie, delle sceneggiature che credo che piacciono ai lettori. Poi anche il disegno è fatto bene, è uno dei personaggi che noi curiamo di più. Insomma, un mito letterario che non tramonta mai. E ora parliamo di arte con la nostra rubrica consueta a cura di Aristide Malnati a caccia di mostre. Il MUDEC, il Museo delle Culture in via Tortona 56 a Milano, racconta l'America del secolo scorso, indagandola con l'espressione più colorata e plastica della cultura d'oltreoceano, la pop art. Una mostra, fino all'8 settembre, è dedicata a colui che ne fu fondatore e che influenzò tutti i protagonisti contemporanei e successivi, ad iniziare da Andy Warhol. Si tratta della mostra Roy Lichtenstein Visioni multiple. Lichtenstein fu appunto il modello per pop art, ma anche per street art, negli Stati Uniti e in Occidente. E al MUDEC sono esposte oltre 100 opere, tra quadri, tutti di grande fosforescenza cromatica, manifesti pubblicitari, sculture, bozzetti e disegni preparatori. Sono circa 100 le opere esposte in questa mostra. Sculture, arazzi, stampe anche di grande figura. Sono molti anche i temi. Quello principale è il ritratto, sia di volti conosciuti che di volti sconosciuti. Bellissimi ritratti femminili, espressioni iconiche di una ritta di sentimenti con prevalenza di quelli positivi, in sintonia con il boom americano. Anche se, il quadro più famoso è La donna che piange, modello delle tante Marilyn di Andy Warhol. E allo stesso modo è innegabile l'influenza di Lichtenstein su tutte le arti figurative del mondo contemporaneo. L'arte sofisticata di Lichtenstein ha influenzato generazioni di creativi, dalla pittura alla pubblicità, dalla fotografia al design e alla moda. E l'influenza visiva contemporanea è ancora molto forte. Cambiamo argomento. Le università cattoliche del mondo fanno sempre più rete con sinergie, soprattutto in vista dei rapporti internazionali e della ricerca. In questo contesto l'Università Cattolica del Sacro Cuore entra a far parte del Comitato per l'Alta Formazione della Federazione Internazionale delle Università Cattoliche. Ci spiega tutti i particolari Anna Maria Braccini. Un ingresso importante è quello dell'Ateneo dei Cattolici Italiani dell'Università Cattolica del Sacro Cuore nel neonato Comitato per la Trasformazione dell'Alta Formazione Cattolica interno alla Federazione Internazionale delle Università Cattoliche. Per l'occasione a Milano, proprio presso la Cattolica, è arrivata la Presidente della Federazione stessa, FIUK. Il Comitato strategico coinvolge 8 tra le circa 200 università cattoliche del mondo aderenti alla Federazione Internazionale delle Università Cattoliche, FIUK. Il fine è quello di offrire una voce il più forte possibile e unificata sul ruolo e il contributo della ricerca e dell'Alta Formazione. Attraverso questo strumento vogliamo alimentare un dialogo costante e costruttivo tra diversi Atenei, tra i quali la Cattolica è certamente una delle top al mondo. Concorde con la Presidente Gil, anche il Rettore della Cattolica, il Professor Franco Anelli, che sottolinea il ruolo della ricerca. Ci siamo resi conto che nel contesto attuale è molto importante porre l'accento sulla ricerca, senza abbandonare la tradizionale vocazione delle università continentali e di quelle cattoliche in particolare, proprio alla educazione. Dobbiamo però coprire entrambi i versanti, il baricentro dell'attenzione del mondo universitario mondiale si sposta appunto sui risultati di ricerca. Per fare ricerche in modo efficace è necessario avere consistenza economica, avere tradizione culturale e avere relazioni. Bene, era questa la nostra ultima notizia per chi ha seguito l'edizione in diretta del nostro telegiornale delle ore 19.20, subito dopo la pubblicità, le previsioni del tempo e poi spazio allo sport. Prima con il nostro notiziario sportivo, Nova Stadio TG, poi l'approfondimento calcistico della giornata, Nova Stadio Sprint e poi in prima serata spazio in motore come ogni giovedì alle 20.30 con griglia di partenza. Io vi ringrazio per averci seguito e vi invito a rimanere su Tele Nova. Buona serata!